Ernesto Tomasini debuta nel cabaret e nel teatro in Sicilia all'età di 16 anni, facendo da supporter a Nino Frassica in una serie di spettacoli dal vivo e interpretando un ruolo di primo piano accanto a Duilio del Prete nella prima nazionale di morte nella notte di Natale di Franz Xaver Croetz, a Palermo e Roma. Nei primi anni 90 si trasferisce a Londra dove interpreta ruoli da protagonista sui grandi palcoscenici del teatro musicale, Chicago The Musical, in produzioni indipendenti, M.R. Kinas Son della Blind Summit, e con compagnie di teatro sperimentale. Lindsay Kemp, Ernesto ha scritto, interpretato, prodotto quattro spettacoli, fra cui True or Falsetto, che, dopo il debutto al Festival di Edimburgo, è stato rappresentato a Londra per due stagioni e in una tournée mondiale in tre lingue. Dopo una pausa dedicata alla musica è tornato al teatro nel 2013, nei panni di Giacomo Casanova, un ruolo scritto apposta per lui da Andrea Cusumano in una sua nuova commedia. E Tica Eval Blanc, che ha debuttato all'International Theatre Festival of Kerala in India. Nel 2014 interpreta la protagonista nell'Aida di Roberta Torre al Teatro Biondo Stabile di Palermo. È una diva del muto in Mamma Schiavona. Con musiche originali composte per lui dalla musicista canadese Julia Kent, al Teatro Astra di Torino. Come interprete di cabaret d'avanguardie e performance articolo si è esibito in teatri, musei ed istituti culturali in tredici diverse nazioni. Collaborando con artisti come Steven Montagheron Atei e con la Resonance Radio Orchestra. Nel 2013 si è esibito in una serata di beneficenza organizzata dall'artista Franco B.